io lo so che viviamo in un mondo di grande materialismo in cui si pensa che non esiste nulla oltre quello che abbiamo sotto i nostri occhi eppure si dovrebbe rivalutare l'importanza della preghiera l'importanza di affidarsi ad un ente superiore che regola l'universo e che ha una influenza sulle nostre vite non voglio affrontare questo argomento soltanto dal mio punto di vista particolare quello della persona che proviene da una formazione cattolica ma proprio come richiamo ad un atteggiamento che può essere condiviso anche da coloro che aderiscono ad altre religioni o che vogliono avere un atteggiamento spirituale nei confronti della vita certo io penso la pienezza della verità si trovi in quello che la chiesa cattolica ha tradizionalmente insegnato ma ritengo che porsi in atteggiamento di preghiera anche se al di fuori della stessa chiesa sia una sorta di preambula fidei una preparazione remota alla pienezza dell'appartenenza a dio quindi credo sia importante incoraggiare ognuno ad uscire fuori da se stesso dal piccolo mondo interiore in cui a volte viviamo la preghiera come ho detto ci insegna ad affidarci noi pensiamo che possiamo tutto da soli ma non è così certo è bello coltivare una certa autostima per vivere meglio ma non dobbiamo eccedere in questo pensando che siamo autosufficienti autosufficienti a noi stessi perché purtroppo non è vero dobbiamo imparare a lasciarci andare a cercare la nostra forza in una forza più grande che può essere quella della comunità che ci circonda ma soprattutto è quella di un essere superiore di cui non possiamo escludere l'esistenza anche se fossimo gli atei più pervigaci la preghiera ci dona consapevolezza ci fa guardare oltre ci sveglia il pastore statunitense toni campolo ha un pensiero efficace quando dice ciò che dovremmo chiedere quando preghiamo è di svegliarci prima di morire la vita può piantarci in asso da un momento all'altro non accontentiamoci semplicemente di una buona circolazione sanguigna ecco questo pensiero mi sembra molto indovinato la preghiera ci dona consapevolezza della nostra condizione terrena ci spinge a guardare al di fuori di noi stessi sapeste quante ansie e nevrosi ci attaccano proprio perché non siamo capaci di guardare al di fuori di noi stessi la preghiera ci aiuta in questo e ci aiuta anche ve lo posso assicurare sapere che ci sono persone che in questo momento stanno pregando per noi esistono infatti degli studi scientifici che investigano il potere della preghiera e i risultati sono veramente sconcertanti e sorprendenti la preghiera ci insegna a guardare più in profondità a quello che ci circonda lo scrittore il grande scrittore ernest junger ha un pensiero molto intenso a questo a questo riguardo quando afferma l'atteggiamento di preghiera è originario e naturale non soltanto negli uomini ma anche in animali e piante potremmo cercarlo anche nella materia nei suoi tessuti nelle sue vibrazioni perché il cerchio si chiude ritornando al suo inizio perché una superficie irradiata tende a dilatarsi forse vuole godere del sole più intensamente come la lucertola che si appiattisce esistono piante che celebrano culti solari altre culti lunari è molto originale quello che dice questo grande scrittore e in fondo anche nella bibbia troviamo scritto che tutta la creazione si unisce nella lode del signore dovremmo riuscire a guardare la realtà con gli occhi dello spirito come insegna fra gli altri il grande pensatore brasiliano plinio correa d'olivera che ci chiede di avere uno sguardo sacrale sul mondo e se partecipassimo di qualcosa più grande di quello che pensiamo possiamo escluderlo alcuni hanno difficoltà nel far parte di religioni organizzate e io lo posso veramente capire posso capire questa difficoltà io che vivo da decenni nella crisi della chiesa cattolica e capisco come possa essere difficile fare parte di un'istituzione che ti sembra andare dove non dovrebbe andare ma come mi disse un prete una volta pure se un pesce fosse in una pozzanghera con tutta quell'acqua sporca quale sarebbe l'alternativa quella di saltare fuori e morire vi sembra meglio fate un po voi